Pugno, passo avanti e facciamo questo. Adesso vediamo il peso. Pugno, passo avanti. Pugno, passo avanti. Pugno, passo avanti. Quindi da lì, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, che volta. 1, 2, 3, che volta, eh? 1, 2, 3, che volta. Esattamente, 4 risposto, risposto, 4. Ok? Proviamo. Grazie a tutti.